Per noi in maniera particolare significa ancora una volta ricordarci della responsabilità che ci ha affidati in un momento un po' particolare della storia nostra, regionale, ma soprattutto delle persone che versano in grave povertà. È una situazione che si protrae da parecchi anni e che ancora non si vede via d'uscita, soprattutto qua da noi, anzi ci sono anche dei segnali in controtendenza, per cui noi speriamo di fare tutto il possibile per alleviare lo stato di queste persone, ma in questo chiediamo anche il coinvolgimento e l'aiuto di tutte le istituzioni. La Calabria risponde bene alla raccolta, alla colletta alimentare, alle donazioni? Sicuramente la nostra gente dal cuore generoso, dal cuore nobile e nonostante questo abbiamo bisogno anche di altri aiuti per poter arrivare a tutte le richieste che ci arrivano.